...perturbatore degli equilibri finanziari e quindi è importante fare questo monitoraggio. Per quanto riguarda anche qui l'attività accertativa, l'ente decide autonomamente come procedere. Anche qui è cosa buona e giusta ripartire nel corso dell'esercizio sia per aumentare i flussi di cassa sia per gestire meglio il rapporto con l'utenza destinataria dell'attività accertativa. Lo stesso per esempio si fa anche per i tributi minori, noi ancora siamo in TOSAP e non in COSAP. Lo stesso per l'imposta sulla pubblicità, distinguendo le scadenze nel caso di tributo legato a posizioni permanenti o temporanee. per le posizioni permanenti, lo sappiamo, è all'inizio dell'anno che occorre che sia effettuato il versamento e quindi sono tra le entrate che prima delle altre vengono riscosse nel corso dell'esercizio e quindi per questi in tempi sufficientemente brevi rispetto al calendario solare si possono già fare delle verifiche. trasferimenti statali piuttosto che regionali trasferimenti statali e regionali per i trasferimenti statali per i comuni che hanno il contributo sviluppo investimenti sono due rate maggio-ottobre, il 60% a maggio e il 40% a ottobre. Per gli altri contributi statali il famoso fondo di solidarietà comunale nome più anacronistico di questo ormai non esiste aveva un senso quando fu istituito ormai e si tratta di un trasferimento ordinario a tutti gli effetti e solitamente anche qui una previsione come si fa si fa sulla base sostanzialmente di un dato consolidato quando il ministero procede e per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale prevedere, perché di solito appunto una prima trance viene erogata a febbraio un'altra a maggio e l'altra a fine anno anche qui chiaramente dai tempi anche la riscossione di questi trasferimenti è legata necessariamente ai percorsi di diligenza che adotta l'ente perché se non adottiamo il bilancio, non adottiamo il rendiconto non certifichiamo, quindi non produciamo le certificazioni di bilancio e di rendiconto è inutile prevedere uno step se noi non abbiamo prodotto i documenti perché tanto poi i trasferimenti non ci pervengono per quanto riguarda i trasferimenti regionali anche qui poi dobbiamo sempre eseguire un po' la normativa vigente attualmente con la legge 5 del 2014 nell'articolo 6 nella sua evoluzione normativa prevede appunto che ci siano 4 rate di cui 3 posticipate e una l'ultima il 28 febbraio dell'anno successivo quindi rispetto a queste scadenze farsi un vademe come un'agenda per verificare se sono stati riscossi o meno gli importi anche qui è opportuno un aspetto particolare riguarda secondo me va dato anche i contributi a rendicontazione che un po' sostanzialmente sembra essere il futuro di gran parte dei trasferimenti cioè dire si rallenta prima anticipa, paga, rendi conta e poi ti trasferisco l'importo ecco perché anche sotto questo profilo è importante avere una sufficiente dotazione di cassa avere una sufficiente dotazione di cassa significa anche poter usufruire di contributi a rendicontazione se io non ho sufficiente disponibilità di cassa significa spesso perdere contributi a rendicontazione perché non c'è la possibilità di anticipare i pagamenti e quindi si rischia di perdere il finanziamento abbiamo visto ultimamente magari non riguarda piccoli comuni ma grandi comuni lo hanno visto con il famoso bando periferie di cui tecnicamente ve lo tralascio proprio perché si tratta ormai di avere finanziamenti per investimenti ma anche se vogliamo per quanto riguarda le spese correnti per quanto riguarda soprattutto le spese dei servizi sociali i distretti sociosanitari spesso ormai chi ha l'interlocuzione con l'assessorata regionale la famiglia lo sa soprattutto per alcuni fondi per i PAC con il ministero PAC anziani PAC infanzia occorre prima sostenere la spesa quindi pagare monitorare e rendicontare anche qui gli enti si devono attrezzare non solo per le operazioni finanziarie ma anche per le operazioni di monitoraggio e rendicontazione perché ricordiamo che i principi constabili cosa ci consentono? Di accertare l'entrata nell'esercizio in cui noi abbiamo sostenuto la spesa e quindi è opportuno che entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta venga rendicontata all'ente finanziatore altrimenti avremo una gran mole di residui attivi la programmazione riguarda anche le entrate del titolo terzo le entrate extratibutarie sono sostanzialmente le entrate dai servizi le entrate dalla gestione del patrimonio immobiliare anche qui se per quali patrimoniali quindi che nascono la gestione del patrimonio immobiliare se si tratta di fitti attivi alle varie scadenze contrattuali e definite possiamo ben verificare se il locatario ha provveduto a meno a pagare i canoni di competenza altrimenti se non ci sono particolari scadenze è possibile e opportuno prevedere ad uno step quadrimestrale sulla base delle previsioni però anche qui ora lo vedremo nella prossima slide non è detto che alle diverse scadenze di monitoraggio ci siano gli stessi importi che dobbiamo verificare in queste prime slide noi abbiamo visto delle scadenze di verifica significa che in determinate scadenze noi dobbiamo vedere se è stata riscossa una determinata entrata però l'altro elemento è verificarne l'importo e ora vedremo qualche esempio per chi ha quella scadenza devo andare a verificare se io ho riscosso rispetto a quella data quell'importo che non è detto che sia l'intero importo che io ho stanziato o ho accettato proprio perché è diversa la disciplina di ciascuna entrata prima di andare nello specifico degli importi un momento di analisi per quanto riguarda gli importi a residui per gli importi a residui a differenza di quelli a competenza si può già definire degli step diversi uguali per tutte le entrate che abbiamo a residui e cioè prevedere in questo caso degli step trimestrali il cui ultimo è da fare entro dicembre ricordiamoci alla fine il residuo attivo cos'è il residuo attivo è un'entrata che già al 31 dicembre dell'anno precedente era esigibile quindi in realtà io qui non ho particolare scadenza nel senso che già è scaduto il termine per esigere l'obbligazione quindi ogni voglio dire trimestralmente io devo verificare se le operazioni che ho posto in essere per riscuoterle sono meno andate a buon fine su questo aspetto voglio richiamare l'attenzione su una particolare disciplina prevista nei nostri principi contabili quando parliamo di entrate proprio di un ente parliamo di entrate che poi sono rilevanti ai fini della costituzione del fondo credito di dubbia esigibilità per le entrate rilevanti ai fini del fondo credito di dubbia esigibilità i principi contabili prevedono che dopo tre anni che io ancora non li abbia riscossi previsto il responsabile del servizio competente debba verificare o meno se sussistono i presupposti per mantenere questo residuo o stralciarlo sembrerebbe che questo termine come dire triennale valga solo per le entrate proprie dell'ente e non valga per le altre entrate in realtà paradossalmente è proprio il contrario nel senso che il legislatore dà per le entrate proprie un termine più ampio perché al di là delle entrate proprie dell'ente e al di là delle entrate e dei residui attivi su entrate vincolate che possono essere legate a contributo a rendicontazione che ancora non rispotiamo per situazioni particolari o per esempio per entrate in conto capitale destinati agli investimenti io tranne qualche altra situazione particolare io non dovrei avere residui attivi superiore tre anni eccetto le entrate proprie dell'ente non dovrei averle non dovrei averle sicuramente al servizio conto terzi non dovrei averle nei trasferimenti correnti non vincolati assolutamente devo averle nelle entrate in conto capitale proprie dell'ente quindi dagli in azioni da unere di urbanizzazione perché ricordiamoci che gli urbanizzazioni si accertano per quanto riguarda la prima rata nel momento in cui viene rilasciata la concessione e per quanto riguarda le altre rate sulla base della scadenza delle altre rate previste quindi in realtà io sarei legittimato a lasciare dopo i tre anni solo quelle entrate proprie per le quali io giustifico il mantenimento del residuo ma io altri residui attivi imputati ad altri titoli non li dovrei avere dalle date passiamo agli importi attenzione questi importi sono importi reali non sono scritti così noi abbiamo visto prima le scadenze questi sono gli importi che noi nel nostro comune verifichiamo ai fini di verificare l'andamento di cassa quindi noi abbiamo previsto entro il primo semestre di incassare 100.000 euro da accertamenti della Tarso che abbiamo emesso nel corso del primo trimestre semestre 300.000 euro per gli avvisi che abbiamo previsto e abbiamo emesso già nel secondo semestre lo stesso per le liste di carico la TOSAP permanente i nostri 290.000 euro noi dovevamo riscuoterli entro gennaio quindi la verifica sulla riscossione della TOSAP permanente va fatta entro febbraio per l'intero importo quindi alle scadenze va verificata la riscossione degli importi che abbiamo programmato quindi la programmazione riguarda date e importi altri contributi statali noi abbiamo il 5 per 1000 sulla base delle scadenze anche per gli importi più piccoli abbiamo definito gli importi da riscuotere poi lì dove vedete quelle cifre grandi perché per esempio il comune di Enna è capofila distretto socio-sanitario quindi abbiamo PAC anziani PAC infanzia e ci sono molte somme anche lì gli uffici competenti sostengono la spesa rendicontano fanno il monitoraggio e quindi diventa un contributo a rendicontazione sulla base dell'andamento di questa attività poi il ministero trasferisce la liquidità anticipata proventi da servizi noi prima abbiamo visto per esempio nei proventi da servizi di fare dei monitoraggi quadrimestrali ma per quali importi anche qui nei proventi da servizi dipende dalla tipologia di entrata che noi stiamo gestendo come vedete qui proventi impianti sportivi piscina abbiamo fatto un esempio classico chiaramente per esempio nella realtà di Enna ci sono piscine coperte che funzionano tutto l'anno e piscine scoperte a mille metri la piscina scoperta d'inverno vi giuro che non sarebbe frequentata da nessuno e quindi chiaramente gran parte dell'importo lo dobbiamo verificare per il periodo estivo la piscina coperta è frequentata durante tutto l'anno quindi sulla base dell'andamento medio dell'utenza che frequenta la piscina faremo la verifica per quella interna per quella coperta per quella scoperta la verifica verrà fatta chiaramente per gli introidi del secondo quadrimestre cioè il periodo in cui funziona anche per la menza scolastica sono dei servizi che diamo e che chiaramente il genitore chiede e ottiene all'inizio dell'anno scolastico quindi sono entrate che si realizzano nel mese di settembre ottobre dell'anno quindi è un monitoraggio che va fatto sicuramente nell'ultimo quadrimestre lo stesso per il trasporto alunni quindi a parità di scadenze diversi sono gli importi la cui programmazione di riscossione va verificata secondo la natura la dinamica la tipologia e la disciplina normativa di quella specifica entrata tutto questo per cosa poi chiaramente si soffermerà molto di più il dottore Emiliano sull'argomento ai fini anche della costituzione del fondo credito di esigibilità ormai anche nell'ultimo questo sarà il prossimo sarà il primo bilancio il 19-21 nel quale finalmente ci sarà tra virgolette finalmente molto tra virgolette un'annualità per il quale andrà accantonato il 100% della quota che si presume inesigibili delle entrate proprie dell'ente è finito tra virgolette salvo diverse considerazioni normative e disposizioni di legge che dovessero ulteriormente prolungare anche se sembrerebbe dei documenti attuali che non dovrebbero esserci variazioni sul tema quindi ormai si va verso l'accantonamento del 100% delle quote di dubbia e esigibilità e qui quindi la programmazione di cassa non è importante solo per questo ma anche per un altro aspetto perché dal 2019 a legislazione vigente non avremo più il metodo semplificato non avendo più non avendo più il metodo semplificato non potrei questo significherà monitorare necessariamente nel corso dell'esercizio quindi in fase di assestamento e in fase di rendiconto la composizione del fondo credito e esigibilità e monitorare le riscossioni in conto residui quindi comprendete bene che tranne come dire grandi stravolgimenti per carità il legislatore ha piena autonomia e facoltà di modificare le regole significherà che dal prossimo anno sarà un'ulteriore attività per il servizio finanziario sarà un'ulteriore attività per tutte le amministrazioni per gli uffici la gestione della cassa cambia radicalmente quello che fino ad oggi era un'amministrazione di una definizione di principio una norma di principio dobbiamo essere virtuosi diventa cogente dobbiamo farlo non dobbiamo solo proporcelo perché adesso la modifica delle regole sulla gestione della cassa ai fini degli indici di deficitarietà strutturale e ai fini della composizione del fondo credito e esigibilità ce lo impongono e quindi entrerà in vigore pienamente la disciplina vigente con la necessità quindi di monitorare nel corso dell'esercizio sia le riscossioni in conto competenza che le riscossioni in conto residui ecco perché è necessario programmare i flussi di cassa verificarli e non limitarci a definire gli stanziamenti di cassa come somma di residui non incassati o non pagati con stanziamenti di competenza di entrate o di spese un piccolo salvagente che ancora si può utilizzare proprio perché i principi contabili sono stati modificati per le annualità in cui si applica la contabilità armonizzata vi ricordo appunto che il fondo crediti si può costruire rispetto all'articolazione originaria che prevedeva solo incassi di competenza sull'accertamento di competenza al numeratore agli incassi di competenza possiamo aggiungere gli incassi in conto residui sulla competenza dell'anno precedente per aumentare questo valore a questo punto avendo fatto l'analisi come dire della gestione di cassa delle nostre entrate andiamo un attimo a vedere le risultanze di questa gestione di cassa unitamente alle risultanze della gestione di competenza sostanzialmente per i residui attivi e per i residui passivi le attività da svolgere sono similari al di là della diversa definizione che possiamo trovare anche nei principi contabili e quindi se sussiste il titolo giuridico per pagare o incassare se il credito è esigibile nell'annualità che noi stiamo chiudendo è la corretta imputazione e verificare se è corretta anche la data di esigibilità perché ricordiamoci che poi questo è un dato rilevante sia per il bilancio che per il rendiconto si riportano per esempio nel bilancio quali sono gli impegni c'è un'allegata in cui si riportano gli impegni assunti negli esercizi successivi e anche nel rendiconto quali sono gli impegni che sono stati o gli accertamenti che sono stati assunti negli esercizi successivi a quello rendicontato che tipo di attività va fatta sui residui molto più semplice sui residui passivi bisogna vedere se ancora quel debito esiste in tutto o in parte perché spesso quando li chiudiamo a volte ci sono piccole differenze e quindi in questo caso questa differenza va stracciata ci possono essere dei debiti non imputati correttamente in bilancio e vedremo adesso poi per questi come bisognerà agire possono esserci dei debiti che non sono stati imputati correttamente ad un determinato esercizio quindi per quanto riguarda i residui passivi potrebbero esserci delle somme in parte o tutto non dovute o se sono dovute potrebbero esserci degli errori sia per l'esercizio di imputazione dell'esigibilità o per imputazione in termini di codice di bilancio e in questo caso bisogna agire e ora vedremo come possiamo dire che operativamente procede ad un accettamento o delle residui attivi passivi non potrebbero scordare allora sì preliminarmente è opportuno fare anche questa considerazione al di là delle singole competenze ascritte dalla normativa ai diversi organi di fatto io ho portato anche in realtà qualche esempio così lo potremmo anche vedere l'attività di accettamento dei residui parte dai singoli responsabili dei servizi poi ogni ente con proprio strumento regolamentare può prevedere e disciplinare le fasi procedurali più che ancora le competenze in questo caso il procedimento del riaccertamento dei residui deve nascere appunto dai responsabili dei servizi che a mio parere entro il termine del mese se dobbiamo stare nei termini di legge dobbiamo dire che è così entro febbraio dovrebbero fare questa attività questo screening per verificare ciò che va mantenuto ciò che va eliminato ciò che va differito perché con la contabilità armonizzata ricordiamoci non c'è più cosa va conservato e cosa va eliminato c'è un altro fenomeno ciò che va differito fatto questo a quel punto i principi contabili dicono che l'aggiunta fa il riaccertamento ma chiaramente l'aggiunta fa il riaccertamento sulla base delle risultanze prodotte dai responsabili di servizio ora farò vedere poi dopo qualche esempio dove per esempio al comune di Enna ogni dirigente di area procede a fare una determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi queste determine poi vengono richiamate nella deliberazione di giunta con la quale formalmente si procede il riaccertamento dei residui quale atto propedeutico poi per il il consuntivo devo dire che spesso appunto questo tipo di procedura è stata anche concordata con l'organo di revisione perché anche gli organi di revisione hanno ritenuto e secondo me legittimamente di trovarsi in difficoltà di fronte ad un atto ad una mera solo deliberazione di giunta come se il singolo sindaco piuttosto che l'assessore avessero dall'altro lato le competenze tecniche dall'altro lato la cognizione di causa su ciascun credito e ciascun debito è chiaro che la deliberazione di giunta ha un valore ricognitorio dell'attività svolta dai responsabili dei servizi quindi cosa devono fare i responsabili dei servizi per i residui passivi quello che abbiamo visto per i residui attivi la valutazione è più articolata e approfondita anche per l'implicazione di responsabilità amministrativa e contabile che può comportare i crediti che dobbiamo riscuotere si dividono in diverse tipologie la prima è quella di credito difficile e dubbia esazione quindi chiaramente stiamo parlando delle entrate proprie gran parte tributarie e poi anche quelle extratributarie abbiamo dei crediti assolutamente inesigibili i principi contabili parlano di inesigibilità assoluta quindi in questo caso i crediti assolutamente inesigibili ora ci ritorneremo vanno stracciati gli insussistenti vanno anch'essi stracciati anche qui come per i residui passivi per i debiti possiamo avere dei residui attivi non correttamente imputati non correttamente imputati in termini di codici di bilancio oppure possono essere non correttamente imputati in termini di esigibilità quindi la prima cosa che va fatta è questo tipo di analisi sia per i residui passivi che per i residui attivi nel caso in cui l'ha fatto due volte il concetto di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato della programmazione dei flussi di cassa sono passati tre anni qui bisogna valutare se mantenerlo o meno non è inutile che qui stiamo a parlarne anche perché poi sarà sufficientemente approfondito nel pomeriggio è bene comprimere al massimo la fase di riscossione equattiva delle proprie entrate anche se la norma da cinque anni per emettere un avviso di accertamento anche se da poi ulteriori tre anni per emettere un'ordinanza in giunzione piuttosto che fare un'iscrizione al ruolo più tempo passa e minori sono le probabilità di riscuotere questi crediti quando io elimino un credito insussistente o assolutamente inesigibile bisogna darne motivazione l'insussistenza può essere anche un merito materiale di avere lasciato quel credito oppure mentre l'inesigibilità è l'aspetto più rischioso e particolare perché di fronte a un credito che viene stracciato perché inesigibile la più rosea delle situazioni è quella in cui l'inesigibilità nasce da un'infruttuosa esecuzione e quindi significa che io comunque ho esperito tutte le fasi procedurale necessarie al riscuotere del credito e ne è stata acclarata l'infruttuosa esecuzione poi qui si avvirebbe un dibattito che probabilmente sarà approfondito nel pomeriggio sulle comunicazioni di infruttuosa esecuzione dell'agente della riscossione a cui noi diamo i ruoli da riscuotere giusto? e quindi io so che nel pomeriggio appunto il dibattito riguarderà anche le modalità alternativa della riscossione coattiva rispetto anche al ruolo la competenza appunto al riaccertamento dei residui e dell'aggiunta con parere dell'organo di revisione cosa può accadere che dalle nostre parti significa cosa accade sempre sostanzialmente nei comuni che adottano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente ci può essere la necessità di dovere re-imputare immediatamente alcuni residui perché è necessario fare a fronte ad una spesa per evitare un danno all'ente in questo caso se il bilancio è stato approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente in attesa della deliberazione di giunta di riaccertamento ordinario totale dei residui con determinazione del responsabile del servizio finanziario sottoposta a parere dell'organo di revisione questo è l'unico caso previsto all'ordinamento contabile in cui gli atti del responsabile del servizio finanziario sono sottoposti a parere dell'organo di revisione si può procedere ad acclarare questa variazione di bilancio che è esposta l'esigibilità di un residuo quindi di un debito da un anno all'altro se invece com'è la normalità delle nostre latitudini siamo di fronte alla necessità di riutilizzare all'inizio dell'esercizio successivo un impegno assunto nell'anno precedente di cui occorre definirne l'esigibilità all'anno successivo in attesa delle operazioni di riaccertamento dei residui e quindi della delibera di giunta si può fare una reimputazione parziale in questo caso con delibera di giunta quindi se il bilancio approvato provvede il responsabile del servizio finanziario quindi se nel momento in cui si fa il riaccertamento parziale o perché il bilancio è stato adottato entro il 31 dicembre precedente oppure perché entro il febbraio dell'anno successivo il bilancio è approvato il responsabile del servizio finanziario procede con propria determina se invece tempi si allungano in questo caso la variazione è disposta con deliberazione di giunta in entrambi i casi occorre il palere dell'ordano di revisione anche qui come dire casi strani della normativa supponiamo di avere un bilancio già approvato e quindi in questo caso abbiamo detto siamo nell'ipotesi all'inizio dell'anno successivo in cui il differimento comporta l'adozione di un atto sottoposto al parere dell'orgono di revisione uno dei casi come abbiamo detto prima delle variazioni di cassa per le quali le variazioni si possono produrre fino al 31 dicembre è la variazione di esigibilità per esempio di un impegno la normativa prevede che se il differimento si fa entro il 31 dicembre dell'anno precedente perché per esempio in un lavoro pubblico il responsabile dell'area tecnica di una delle aree tecniche secondo le articolazioni organizzative prevede di differire già l'esigibilità entro il 31 dicembre in questo caso c'è una determina del responsabile del servizio finanziario e paradossalmente la normativa forse non tanto paradossalmente perché in realtà poi comincia un'altra gestione non prevede gli stessi adempimenti quindi se il differimento dell'esigibilità viene fatto entro il 31 dicembre dell'anno con determina del responsabile del servizio finanziario non occorre parere dell'organo di revisione se lo fa all'inizio dell'anno successivo occorre parere dell'organo di revisione in quali casistiche si può fare il riaccertamento parziale prima di fare il riaccertamento totale dei residui punto alcune casistiche già le abbiamo accennate prima c'è la necessità di fare un pagamento per esempio per evitare di perdere un finanziamento piuttosto che oppure quel caso che abbiamo detto prima anche dei contributi a rendicontazione occorre necessariamente effettuare un pagamento per evitare di perdere il contributo a rendicontazione l'ultima casistica è stata introdotta l'anno scorso recentemente perché è stata considerata un bonus rispetto alla normalità della gestione da parte di un ente locale soprattutto quelli un po' più un po' più grandicelli anche questo in realtà per esempio riguarda i contributi a rendicontazione supponiamo che ora nel corso del 2018 otteniamo un finanziamento per un contributo a rendicontazione e lo otteniamo adesso siamo a metà novembre io l'entrata quindi l'ho accertata perché ho ottenuto un finanziamento io entro il 31 dicembre non riesco a fare l'impegno perché sono in tempi estremamente stretti allora questo cosa significa che io mi ritrovo l'accertamento nel 2018 e poi il mio impegno lo perfeziono nel 2019 allora in questo caso è stata introdotta questa nuova casistica e possibilità essendo un contributo a rendicontazione i principi contabili mi dicono che io l'entrata la devo andare a imputare nell'esercizio in cui sostengo la spesa allora in questo caso è una necessità cosa si deve fare su richiesta che la mente è responsabile del servizio che ha questa necessità cancello il mio accertamento dal 2018 lo riscrivo nel 2019 con l'imputazione del 2019 che è l'anno in cui io sostengo la spesa che rendi conto lo impongono questi i principi contabili se io devo accertare un'entrata nell'anno in cui io sostengo l'impegno di spesa quindi si perfeziona il mio impegno di spesa e procedo al pagamento anche se io lo accertate in un anno per rispetto del principio contabile lo devo andare a caricarlo nell'anno successivo nell'anno in cui sostengo la spesa quando io faccio il riaccertamento dei residui quindi la mia gestione può dar luogo a conservarli quindi è corretta l'imputazione ricordiamoci anche che il 28 febbraio dell'anno successivo è un termine congruo per fare le operazioni di riaccertamento anche per un altro motivo ricordiamoci che il principio contabile prevede che entro il 28 febbraio dell'anno successivo possono essere ben liquidate e pagate le somme dell'anno precedente in questo caso io come regola operativa di norma dice quindi non è che dopo il febbraio non si può pagare nulla figuriamoci con tutti i comuni che hanno difficoltà di cassa se dopo il 28 febbraio dell'anno successivo non possono procedere da pagamento è buona norma per esempio adotto che nel momento in cui nell'anno successivo per qualsiasi motivo si provveda dopo il 28 febbraio a pagare le somme imputate a residui fare indicare nell'atto di liquidazione che si tratta di obbligazione che comunque è venuta a scadenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente è buona norma farlo inserire al responsabile del servizio che provvede alla liquidazione perché ricordiamoci che noi in qualsiasi esercizio possiamo liquidare e pagare a residui solo obbligazioni che sono già scadute nell'anno precedente non che scadono nell'esercizio in corso imputate a residui quindi fatta questa prima grande analisi ciò che devo mantenere ciò che devo eliminare ciò che devo re-imputare ora su ciò che devo re-imputare ci torniamo ma innanzitutto vediamo quali sono le altre implicazioni che nascono da riaccertamento dei residui e guardate che su questo aspetto spesso nei comuni si fanno molti errori e sono errori che poi nel tempo incidono anche sugli equilibri di Cass quindi come dire non solo bisogna stare attenti sull'analisi dei residui attivi e quindi dei crediti per quello che tra virgolette ci siamo detti perché in realtà lo sforamento degli indici di fiscalità strutturale nasce anche dal fatto che manteniamo appunto dei residui in bilancio che sono inesigibili o insussistenti cosa accade nel momento in cui facciamo le operazioni di riaccertamento dei residui innanzitutto dobbiamo accantonare lo stanziamento che abbiamo creato in bilancio per il fondo credo di esigibilità fino al 2018 a noi basta prendere lo stanziamento se non utilizzato lo consideriamo accantonato per intero se abbiamo stracciato dei residui attivi lo accantoniamo per la quota non utilizzata quindi prendiamo l'importo dello stanziamento decurtato dall'importo dei residui attivi eliminati per i quali chiaramente parliamo di residui attivi del titolo primo e del titolo terzo sostanzialmente che sono stati presi in considerazione per costruire il fondo anche qui la normativa si presta ad una riflessione perché la normativa prevede che io in questo caso utilizzi il fondo credito per esigibilità per arginare l'eliminazione di residui attivi la normativa consente di utilizzare il fondo credito per qualsiasi residuo attivo di quelli che incidono sulla costituzione del fondo indipendentemente dall'anno di maturazione io vi ricordo che il fondo credito esigibilità non è altro che l'accantonamento pari ad una quota parte dello stanziamento di competenza di queste entrate a partire dal 2015 noi in questi anni ci troveremo a stracciare dal nostro conto di bilancio residui anche anteriore al 2015 la normativa di per sé mi consente per lo straccio di residui attivi anteriore al 2015 di attingere dal fondo credito però ricordiamoci che comunque stiamo attingendo da un fondo che attiene anni in questo caso a cancellare residui attivi relativi ad anni di accertamenti di entrate e distanziamenti di entrate che non hanno contribuito a costituire quel fondo facendo un esempio semplice supponiamo che io a fronte di un ruolo della tassa rifiuti del 2015 vado per grandi numeri di un milione di euro e nel fondo ne ho accantonato 200.000 nel momento in cui io facendo il consuntivo 2018 utilizzo una quota parte del fondo per stracciare 100.000 euro di residui attivi della tassa rifiuti del 2014 piuttosto che del 2013 è chiaro che in questo momento sto eliminando il salvagente che avevo creato per gli eventuali residui attivi insussistenti del 2015 torno a ripetere i principi contabili non lo specificano e quindi è ammesso e legittimo che utilizzo il fondo crediti anche per neutralizzare la cancellazione di residui attivi anteriore al 2015 però va da sé che io sto togliendo il salvagente per i residui attivi degli anni per cui io l'ho costruito e quindi perché questo ragionamento perché dipende da come io chiudo la gestione a questo punto è come dire atteggiamento di prudenza che anche se io nel fondo credito di dubbi esigibilità ho stanziato 100 e supponiamo che io non lo abbia utilizzato per residui attivi eliminati e quindi mi ritrovo alla fine dell'esercizio 100 ricordiamoci che la normativa nelle sue percentuali 70 85 95 100 fa riferimento a dei limiti minimi nulla mi impedisce di accantonare di più sulla base del risultato che mi perviene fuori se io ho dei margini accantono anche più di quanto previsto soprattutto in queste annualità in cui ci sarà la deroga normativa di accantonare meno del 100% delle previsioni di dubbi e difficile esazione è opportuno accantonare di più vuol dire ancora noi non sappiamo come si svilupperà il dibattito normativo sulla pace fiscale e questo potrebbe incidere molto sui comuni ove fosse un provvedimento varato e aperto anche ai tributi locali perché se è aperto anche ai tributi locali ove vi fosse un pari trasferimento dello Stato per ristorare gli enti mancata riscossione mezza pena come si suol dire ma se così non fosse per i comuni si aprirebbe un ulteriore burrone accantonamento al fondo rischi questo è chiaramente un fondo da costruire a quattro mani dove c'è l'avvocatura con l'avvocatura dove non c'è l'avvocatura con i legali incaricati del patrocino dell'ente rispetto al contenzioso in essere potenziale perché è importante il ruolo dei professionisti dell'avvocatura perché l'analisi del rischio rispetto al contenzioso non lo può fare il ragioniere o deve fare l'avvocato l'avvocato interno esterno che si è pagato per questo l'analisi del rischio del contenzioso lo deve fare l'avvocato perché non è che se un comune ha un contenzioso nitinere supponiamo per 10 milioni di euro tutto è fondato perché voglio dire garanzia del nostro ordinamento giudiziario chiunque può chiedere può il petitum lo può presentare chiunque io domani mattina presento un degredo ingiuntivo a un qualsiasi comune per 2 milioni di euro è assolutamente infondato chiaramente se quel comune non si oppone io alla screnza dei termini acquisirò un titolo esecutivo infondato nel merito ma ho acquisito un titolo di credito nella confronto di quel comune però è chiaramente infondato quindi l'analisi dei debiti potenziali va fatta per bene e va fatta dai legali anche qui i principi contabili dicono che ove l'importo sia ingente è possibile spalmare nel tempo quest'importo quindi solo nel primo anno di costituzione del fondo era previsto che si prendesse a riferimento quello dell'anno precedente più appunto tutti quelli pregressi nel primo anno annualmente questo fondo va aggiornato e va aggiornato eliminando dal fondo quegli importi che erano stati accantonati per il contenzioso che si è definito e si è chiuso felicemente per l'ente e quindi quella somma non ha più ragione di essere accantonata e va integrata invece degli importi per il nuovo contenzioso che è nato quindi si tratta di un fondo che adesso ormai che siamo nel 2018 annualmente va aggiornato in questo caso se rispetto a questo contenzioso ad un contenzioso in itinere abbiamo delle somme già impegnate pensiamo a delle forniture rispetto ai quali l'oggetto del contendere è l'importo dovuto noi abbiamo impegnato una somma e il fornitore poi per tante ragioni ne chiede la differenza l'importo che è impegnato rimane impegnato e rispetto alla differenza che è il vero oggetto di contenzioso e accantono somme nel fondo quindi ciò che è impegnato rimane impegnato qui va messa l'eventuale differenza il fondo va costruito per quel contenzioso che ancora va definito e che fondo che viene utilizzato quando il contenzioso si è definito qui io vorrei riprendere anche perché per alcuni comuni in cui la corte dei conti si è espresso sul punto dove la corte ha come dire criticato l'utilizzo di questo fondo in termini tra virgolette così ci intendiamo subito di fondo di riserva cioè a dire io nel corso dell'esercizio perdo un giudizio e allora prendo lo stanziamento dell'anno del fondo lo diminuisco e vado ad implementare il capitolo sul quale devo andare a pagare il debito la corte ha detto scusate i principi sono chiari per tutto il contenzioso in itinere le somme vanno inserite nel fondo il fondo è una quota parte di avanzo accantonato nel momento in cui si verifica il fenomeno io applico l'avanzo accantonato quindi io devo andare ad applicare l'avanzo del fondo rischi che io già ho accantonato e non lo stanziamento dell'anno che ho previsto appunto nel bilancio di previsione che al rendiconto andrà ad implementare il fondo stesso l'altra voce di avanzo accantonato che quindi quando io faccio l'analisi dei residui dei residui passivi devo accantonare lo stanziamento previsto in bilancio per l'indenità di fine mandato del sindaco e alla fine dell'esercizio anche questo stanziamento non va impegnato non costituisce un residuo ma costituisce una voce di avanzo accantonato c'è un'altra voce di avanzo accantonato che non si fa in sede di rendiconto della gestione ma va fatta nel corso dell'esercizio nel momento in cui la fattispecie si manifesta magari per realtà più piccole forse una fattispecie di più difficile accadimento ma magari si perché dipende dagli organismi partecipati che in che stato di salute versano in questo caso se gli organismi partecipati la società partecipate nello specifico come vedete la madia l'articolo 21 dal bilancio emergono delle perdite per le quali non è stato previsto in ambito societario ancora come ripianarle in questo caso va fatto obbligatoriamente un accantonamento quindi va creata una voce di bilancio che a fine anno determina un avanzo che poi potrà essere svincolato nel momento in cui l'organismo societario definisce come ripianare la perdita oppure in questo caso utilizzato ovvero non c'è altro modo poi per ripianare la perdita sempre riprendendo i nostri residui in questo caso partiamo di partite vincolate cosa succede quindi quando faccio il riaccertamento dei residui sulle partite vincolate quando si verifica si verifica quindi quando io ho accertato un'entrata e non ho impegnato la spesa in questo caso l'origine dell'entrata che ho accertato può essere diversa può nascere dagli stessi principi contabili perché ad esempio i principi contabili prevedono che ci sono due casistiche sostanziali previste dai principi contabili uno riguarda i casi in cui esiste un'avvocatura interna in questo caso l'affidamento del patrocino dell'ente all'avvocatura interna sui giudizi in corso ancora al 31 dicembre sulla base delle regole dei contratti decentrati vigenti nell'ente quella somma viene accantonata viene vincolata genera avanzo quindi quell'impegno di spesa tra virgolette assunto sul salario accessorio diventa tra virgolette un'economia per costituire un avanzo vincolato la stessa cosa riguarda i casi in cui il processo di contrattazione decentrata non si perfeziona entro il termine dell'esercizio e cioè entro il termine dell'esercizio io ho la costituzione del fondo o anche non solo la costituzione del fondo possa avere la costituzione del fondo e l'asseverazione dell'ordano di revisione ma non ho comunque ancora la sottoscrizione in entrambi i casi la quota di fondo che non è stata utilizzata diventa avanzo però quale quota mi porto in avanzo è una quota diversa secondo le due fatti specie se io ho costituito solo il fondo non ho neanche l'asseverazione dell'organo di revisione se io ancora per esempio non ho costituito il fondo ecco prima fatti specie io non ho ancora costituito il fondo in questo caso io porto come avanzo vincolato la quota parte distanziamento che si riferisce agli istituti obbligatori indennità di comparto progressione economica orizzontale se io invece il fondo l'ho costituito ma non ho sottoscritto il contratto l'ho costituito l'asseverazione dell'organo di revisione ma non ho sottoscritto il contratto in questo caso come fondo io porto anche posso portare la quota tra virgolette non delle indennità rigide però diventa avanzo fino a quando poi ancora non è definito non cambiano le regole sull'avanzo per lo meno per la parte corrente anche se sembrerebbe che anche quello ora venga sloganato potrebbe essere difficile l'applicazione di questa parte di avanzo quindi queste per esempio nascono dai principi contabili nascono da leggi dai trasferimenti otteniamo un trasferimento vincolato entro il termine dell'esercizio non abbiamo impegnato quindi questo stanziamento di spesa pari per l'importo pari all'entrata che ho accertato non per l'importo pari allo stanziamento di entrata ma per l'importo pari all'importo accertato in entrata definisce il mio avanzo vincolato quindi anche questo quindi in fase di riaccertamento dei residui devo fare già tutte queste analisi cosa faccio con l'entrata in conto capitale che non ho utilizzato per impegnarla per investimenti diventa avanzo destinato quindi abbiamo visto in fase di riaccertamento dei residui che si genera o l'avanzo accantonato o l'avanzo vincolato o l'avanzo destinato poi sulle possibilità e quando come utilizzarlo dirà il dottore Mineo quindi in fase di riaccertamento quindi non facciamo solo mantengo stralcio ma determino anche una costituzione di avanzo e questo è determinato naturalmente dalle nuove regole contabili mentre prima con la vecchia contabilità sostanzialmente era tutto molto più semplice adesso regole contabili vedono diversa natura di avanzo e diverse regole appunto di accertamento di impegno l'ultimo aspetto per il riaccertamento dei residui abbiamo detto mantenimento cancellazione differimento dell'esigibilità e siamo ora a parlare di questo caso del differimento dell'esigibilità differimento dell'esigibilità che nasce per diverse situazioni un caso che abbiamo detto prima io ho accertato in entrata un avanzo su un'entrata vincolata non ho impegnato la spesa parliamo di una spesa corrente prendiamo la prima casistica non ho impegnato la spesa in questo caso si genera l'avanzo se io la spesa l'ho impegnata che significa che ho individuato il creditore può darsi che entro il termine dell'esercizio tutta la spesa che è impegnata non sia esigibile se è impegnata una spesa su un capitolo finanziato dall'entrata vincolata ma la cui scadenza di esigibilità non è più nell'esercizio come prevedevo comunque va differita in questo caso ma solo se io già l'ho impegnata quindi ho individuato il creditore per la parte di cui cambia l'esigibilità posso trasportarla ad esercizio successivo la posso differire per poterlo fare quindi io devo averla impegnata non devo avere solo lo stanziamento se ho solo lo stanziamento accettato l'entrata genero avanzo vincolato per poterlo differire con il fondo plenale vincolato io l'impegno lo devo aver assunto entro il 31 dicembre devo avere il creditore certo per quanto riguarda poi entrate vincolate che finanziano spese in conto capitale diverse dalle opere pubbliche vale lo stesso discorso delle spese correnti vincolate se io ho fatto l'impegno di spese entro il 31 dicembre che significa individuato il creditore perché ho comprato un veicolo perché ho comprato delle attrezzature quindi parliamo non di opere pubbliche ma di altre tipologie di investimenti se l'esigibilità mi cambia lo posso differire quindi la somma portarla con il fondo plenale vincolato all'esercizio successivo spese per opere pubbliche e qui il mondo è variegato posso avere già di per sé definendolo anche con il piano triennale delle opere pubbliche un diverso cronoprogramma io ho definito un cronoprogramma a quest'opera pubblica la realizzo in tre o quattro annualità e quindi secondo l'annualità di imputazione definisco il fondo plenale vincolato negli anni può accadere che entro l'anno o al 31 dicembre o nei primi mesi dell'anno successivo anche nel caso in cui sia necessario un riaccettamento parziale come abbiamo visto può darsi anche che la mia programmazione non vada bene vada ridefinita allora in questo caso sono legittimato a rimodulare il cronoprogramma e quindi a rimodulare le somme imputate a fondo plenale vincolato quando poi negli altri casi posso utilizzare lo strumento del fondo plenale vincolato per un'opera pubblica quando io entro il 31 dicembre ho avviato comunque la procedura di gara significa che entro il 31 dicembre al 31 dicembre ho mandato le lettere d'invito ho pubblicato l'avviso all'albo nel caso di una procedura aperta oppure l'altra casistica è che si tratti di un progetto esecutivo per il quale c'è stato un atto di approvazione del progetto esecutivo una quota parte delle spese di questo progetto esecutivo siano state impegnate ma devono essere spese diverse dagli incarichi di progettazione quindi se rispetto ad un quadro generale di un'opera pubblica io ho già impegnato le somme che ne so per il conferimento in discarica per altre per l'avvio anche di lavori in questo caso io l'intero importo poi che non ho utilizzato che non utilizzerò nell'anno lo posso portare l'anno successivo se rispetto a quell'opera pubblica ho conferito solo un incarico di progettazione non posso differire tutto l'importo dell'opera tranne chiaramente l'incarico di progettazione eventualmente diventa avanzo vincolato quindi lo potrò utilizzare l'anno dopo solo con l'applicazione di avanzo è prevista anche una casistica residuale quale? io ho fatto un impegno di spesa che ritengo esigibile entro il 31 dicembre e dopo attenzione il principio fondabile dice dopo che io ho assunto l'impegno di spesa si è verificato un accadimento per il quale quella somma non è più esigibile nell'anno in corso nell'anno in cui ho assunto l'impegno in cui ho definito l'esigibilità dell'impegno ma va nell'anno successivo in questo caso quindi posso differirlo io consiglio sempre di utilizzare tra virgolette cum granosalis questo istituto perché a volte si si trovano le più svariate giustificazioni per dire lo differisco lo differisco se ci sono delle ragioni documentate per le quali io posso verificare che i nuovi accadimenti abbiano data successiva a quelle in cui ho assunto l'impegno di spesa una cosa quando c'è la possibilità di riaprire l'accettamento straordinario allora il raccettamento straordinario la stessa la stessa Corte dei Conti ha rilevato che nei comuni a volte per non dire sovente è stato fatto con degli errori e qui abbiamo una letteratura della magistratura contabile variegata e un dettato normativo rispetto al quale secondo me dobbiamo attendere ora la nuova legge di bilancio su richiesta di alcuni enti la Corte dei Conti già si è espressa in generale enti che non hanno situazione di patologia finanziaria acclarata sulla possibilità di intervenire sull'accertamento straordinario se c'è la possibilità o meno di agire la Corte dei Conti ha detto che non possono più agire per quest'anno con un termine che è sostanzialmente scaduto entro luglio diciamo così ad alcuni enti quelli per i quali la Corte dei Conti ha acclarato che il riaccettamento straordinario dei residui aveva determinato tra virgolette degli errori che incidono sulle patologie finanziarie degli enti ha dato dei brevi termini sostanzialmente da aprile a luglio per poter riaprire chiaramente la Corte dei Conti si era soffermato su enti sostanzialmente che erano in situazione di riequilibrio finanziario pluriannale ad oggi lo stato normativo è questo probabilmente probabilmente nella dinamica normativa per il quale gli istituti di risonamento finanziario di stesso riequilibrio saranno rimodulati non si esclude la riapertura di una finestra probabilmente con determinate condizioni per procedere attualmente non c'è la possibilità di procedere sulla base delle indicazioni che sono state date appunto dalla Corte dei Conti e da quell'ultimo dettato normativo che è scaduto a luglio che rispetto ai quali parecchienti hanno chiesto questo hanno chiesto questo quindi ora bisogna vedere anche tra virgolette l'Anci in generale il legislatore se riterrà di recepire questo allo Stato non si può però la cosa è in fase di discussione e non è detto che nella prossima legge di bilancio con i diversi emendamenti qualcosa venga già introdotta perché comunque c'è un confronto e c'è un dibattito molto forte sul punto perché lo legherebbero probabilmente alla rivisitazione complessiva degli istituti di risanamento probabilmente l'istituto del dissesto dell'equilibrio finanziario come oggi lo conosciamo non esisterà più sarà una sorta di concordato preventivo perenne in base al fatto che il riaccertamento straordinario non può essere riaperto autonomamente se qualcuno ha necessità di riaprirlo ha possibilità di confrontarsi con il magistrato tra virgolette se lo può tra virgolette fare aprire con la prescrizione della Corte dei Conti quindi non autonomamente ma qualora ci siano stati errori madornali avallati avallati scusate verificati dal magistrato eventualmente su prescrizione della sezione di controllo il riaccertamento straordinario può essere riaperto però vi dico può essere riaperto qualora sia autorizzato prescritto addirittura non autonomamente difatti la normativa parla di irrepetibilità dell'operazione di riaccertamento straordinario scusate infatti riprendendo proprio quello che ha detto il dottore Emineo diciamo qualche comune grande non molto distante da qui ha avuto la prescrizione della Corte dei Conti di procedere ad adottare manovre di correzione riguardavano anche questo anche se poi si sono rivelate sostanzialmente inutili per le opere pubbliche cosa si attende probabilmente già con la prossima legge di bilancio che probabilmente basterà ancora non è definito l'adozione della determina a contrarre per portare un'opera pubblica per intero negli anni successivi quindi basterà probabilmente l'adozione della determina a contrarre il 31 dicembre dell'anno precedente per spostare la somma all'anno successivo cosa succede a questo punto noi abbiamo chiuso la nostra gestione dopo che noi chiudiamo la nostra gestione si possono verificare debiti fuori bilancio sui debiti fuori bilancio anche per andare più spediti ci sono le casistiche previste dall'articolo 194 li conosciamo tutti dalla lettera A alla lettera E sappiamo che le casistiche nascono la lettera A sentenze la lettera B la copertura di disavanzo di consorzi aziende speciali poi abbiamo indennità di esproprio la ricapitalizzazione di assetti societari ricordiamoci che nei debiti fuori bilancio ci va la ricapitalizzazione e non la copertura di perdite la copertura di perdite abbiamo visto va creato il fondo rispetto alla madia quasi tratta di ripristinare il capitale sociale o l'acquisto di beni e servizi anche qui come previsto dall'articolo 193 dipende dalla tipologia di spesa se il mio debito è una spesa in conto capitale posso utilizzare per ricanarlo anche entrate in conto capitale se la mia spesa ho eventualmente un mutuo se la mia spesa è una spesa corrente devo utilizzare risorse corrente in ogni caso per entrambe le tipologie è ammessa la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero ricordiamoci senza l'articolo 187 l'avanzo di amministrazione libero tra le sue destinazioni prioritarie proprio alla prima lettera mette la copertura dei debiti fuori bilancio in realtà poi abbiamo tre fatti specie che non sono previste nell'articolo 194 che si tratta di fatto di fatti specie convenzionali previste dai principi contabili per aggiustare degli errori se vogliamo il primo caso si verifica quando il tesoriere ha fatto dei pagamenti entro il 31 dicembre il primo caso è nel caso in cui il tesoriere ha fatto pagamenti per azione esecutiva entro il 31 dicembre non è stata regolarizzata la posizione perché in questo caso occorre entro il 31 dicembre fare una variazione di bilancio dare copertura alla spesa pagata dal tesoriere e quindi mettere il mandato di pagamento a regolarizzazione se entro il 31 dicembre questo non l'ho fatto quando approvo il consuntivo devo dare atto dell'esistenza di questo debito fuori bilancio e io anche se decorso l'esercizio devo emettere l'ordinativo di pagamento facendo parte della gestione di cassa dell'esercizio precedente quindi per me è la regolarizzazione di un provvisorio dell'esercizio precedente quindi di avere data dell'esercizio precedente e questo è l'unico caso in cui si deroga al principio della natura autorizzatoria degli stanziamenti in questo caso posso sforare lo stanziamento previsto posso avere sbagliato l'imputazione noi l'abbiamo visto prima tra le casistiche di analisi dei miei residui per un residuo io posso avere sbagliato l'imputazione era stata imputata ad un titolo e andava imputata ad un altro titolo sia di entrata che di spesa per l'entrata io non ho alcun problema a farlo io posso sfondare gli stanziamenti posso farela qualunque il problema si pone per la spesa perché io non posso avere un maggior residuo passivo posso avere solo un minor residuo passivo nel caso dell'entrata io anche nell'esercizio successivo posso fare l'accertamento in conto residui e quindi avere un maggior accertamento a residui ma per la spesa non lo posso fare allora in questo caso cosa si fa cosa prevede il principio mondabile se ho sbagliato l'imputazione di titolo di spesa io devo innanzitutto nel rendiconto della gestione portarmelo come avanzo vincolato cioè a questo punto devo eliminare l'impegno e portarlo come avanzo vincolato con il rendiconto approvando il rendiconto riconosco questo debito fuori bilancio e gli do come finanziamento quella quota di avanzo vincolato tra virgolette il principio mondabile dice con imputazione all'esercizio cui si riferisce è chiaro che non c'è nessun software di ragioneria che quando metto l'anno in imputazione oggi mi consente di mettere come imputazione l'anno precedente se ne dà direttamente conto nell'atto con cui si riconosce e con cui si approva il rendiconto la terza casistica è quella anche classica che conoscevamo dalla precedente contabilità cioè quella per il quale in realtà c'è un maggiore importo rispetto a quello preventivato nel senso di non di passività pregressa cioè di un impegno esistente che nelle sue evoluzioni nel tempo si è rivelato di importo superiore ma nel senso che io per errore posso aver eliminato il residuo passivo e lo devo di nuovo lo devo pagare lo devo liquidare allora in questo caso con le modalità di finanziamento che abbiamo parlato spesa corrente risorse correnti risorse in conto capitale secondo se abbiamo pure spesa corrente risorse in conto capitale o l'utilizzo di avanzo in questo caso vuol dire devo finanziare e riconoscere il debito nell'anno in cui vi provvedo in generale in generale la normativa prevede che per quanto riguarda la lettera E quindi la fornitura di beni e servizi in violazione dell'articolo 191 io devo provvedere al riconoscimento e al finanziamento del debito nell'esercizio in cui il debito mi matura quindi significa che se ho fatto una fornitura senza impegno contabile io devo fare la procedura nello stesso esercizio e lo devo imputare nello stesso esercizio perché i principi montabili dicono che devo provvedere a regolarizzare la situazione nell'esercizio in cui ne ho avuto conoscenza voglio dire fare una fornitura senza impegno di spesa dico solo per casi straordinari io ne ho conoscenze in altri esercizi se comunque io provvedo in altri esercizi allora in questo caso io provvedo a dare copertura negli esercizi successivi però guardate che rispetto alle ultime pronunce della Corte dei Conti questo discrimine è molto importante perché dopo che le sezioni riunite si erano espresse negativamente sulla possibilità di realizzare nel triennio eventuali debiti fuori bilancio di ingente importo per i quali in un singolo esercizio non si riusciva a dare integrale copertura finanziaria adesso invece la sezione di autonomia si è espresso in termini possibilisti però quali sono i termini il riconoscimento deve essere fatto nell'esercizio in cui il debito sia avuto a conoscenza è emerso quindi se noi parliamo della fornitura di beni e servizi se io voglio rateizzare nel triennio la mia fornitura ingente effettuata in violazione dei principi contabili quindi senza impegno regolare io il riconoscimento lo devo fare immediatamente nello stesso esercizio in cui è emerso se io voglio avvalermi della possibilità di rateizzarlo nel triennio se io lo faccio nell'esercizio successivo quindi da ora in poi diventa importante se io intendo rateizzarlo nei provvedimenti di riconoscimento certificare anche quando il debito è emerso è condizione imprescindibile e chiaramente come previsto voglio dire da letteratura gius contabile consolidata ci deve essere anche l'accordo dei creditori quindi la differenziazione del principio contabile cioè la raccomandazione di provvedere al finanziamento nello stesso esercizio in cui è emerso e quindi in questo caso si imputa nello stesso esercizio in cui è emerso o nell'altro caso se invece il riconoscimento avviene nell'esercizio successivo diventa fondamentale sulla possibilità di utilizzare previ accordo con i creditori la possibilità di rateizzare la copertura del debito chiaramente in questo caso voglio dire avremmo delle scritture separate per quanto riguarda la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale che abbiamo ancora in via coniscitiva quindi in contabilità finanziaria ripartisco nel triennio la copertura del debito in contabilità economico patrimoniale il debito me lo porto interamente subito nella prima annualità si è riaperto io qui ho messo qualche pronuncia solo per dire che si è riaperto e secondo me occorre ma è necessario una pronuncia autorevole della sezione autonomia su un aspetto su quando riconoscere sulla possibilità di riconoscere i debiti fuori bilancio della sentenza da provvedimenti giurisdizionali esecutive anche prima della trattazione da parte del consiglio comunale a un certo punto proprio alla corte di conti sicilia le sezioni riunite con la sentenza 2 2005 su input del comune di Palermo aveva aperto le porte in questo senso e quindi per anni si è andata in questa direzione poi la stessa sezione e altre sezioni regionali hanno fatto marcia indietro la sezione sicilia poi su un altro tipo di situazione legata al comune di Modica ha fatto marcia indietro e un po' di sezioni nazionali hanno fatto marcia indietro oggi ci stiamo ritrovando di nuovo nel 2018 la riapertura di un dibattito e secondo me gli operatori siccome tra virgolette non siamo uno stato federale come gli Stati Uniti della serie ogni stato ha le sue leggi il fatto che oggi facendo un esempio se il comune di La Spezia in Liguria procede al pagamento del debito prima che vada in consiglio comunale la proposta di riconoscimento nessuno gli eccepisce nulla perché la corte dei conti in Liguria ha detto che si può fare se il comune di Salerno procede perché la corte dei conti di Campania che poi in parte ha fatto marcia indietro comunque ha ammesso questo e il comune di Sant'Alessio non può procedere perché la corte dei conti Sicilia ha detto che così non si fa è una situazione assurda non può essere che l'ubicazione territoriale di un ente locale in Italia determini la possibilità o meno di utilizzare una procedura quindi è opportuno che anche a più presto la sezione autonomie su questo si pronunci un ultimo aspetto a questo punto sull'indebitamento no vabbè non ci sono più slide solo qualche cenno sull'indebitamento gli articoli 199 seguenti danno con chiarezza qual è la disciplina sull'indebitamento che non sto qui a ripetervi è chiaro però una cosa un ente che è in difficoltà di cassa chiaramente capisco che l'utilizzo dello strumento dell'indebitamento può sembrare tra virgolette a un certo punto una panacea anche qui sembrerebbe che con la prossima legge di bilancio dovrebbero riaprirsi finestre per la rinegoziazione dei mutui precedentemente non rinegoziati per i quali quindi sarà prevista la possibilità di ridefinire i tassi questa è stata una richiesta soprattutto fatta dai comuni che hanno avuto l'anticipazione di liquidità per ridefinire questi tassi e quindi anche qui a breve dovremmo avere delle novità vi ricordo solo una cosa che per l'utilizzo dei mutui gli enti devono attestare a differenza della previgente disciplina dell'ordinamento contabile che non hanno possibilità di utilizzare altre risorse senza maggiorione riparlente perché chiaramente il ricorso all'indebitamento richiede il pagamento di interesse anche di preammortamento quando la provvista viene messa in dotazione in disponibilità prima della decorrenza del primo semestre di ammortamento e quindi occorre ove si faccia ricorso all'indebitamento attestare che l'ente non ha assolutamente altre risorse che non comportino oneri per l'ente anche in questo aspetto potrebbe essere utile però qui io stesso per alcune interlocuzioni avute devo dire che ancora il mondo bancario non è pronto non è ostile ma probabilmente ancora non è pronto perché in realtà ricordiamoci che c'è anche lo strumento eventualmente delle aperture di credito che le aperture di credito che consistono sostanzialmente nella possibilità di disporre della provvista sulla base dello stato degli avanzamenti dei lavori di fatto consente anche di gestire contabilmente in maniera molto più spedita rispetto a un mutuo per il quale o prima devo indicare o l'accertamento dell'invento è entrata se non impegno nell'anno mi determina avanzo vincolato ed è importante anche i fini dei principi di pareggio di bilancio perché se ora si sta sdoganando l'utilizzo dell'avanzo e quindi anche gli enti che hanno fatto il riaccertamento straordinario e che hanno spalmato in 30 anni la copertura del riaccertamento del disavanzo del riaccertamento straordinario a breve lo potranno utilizzare anche se con determinati limiti si dice che sostanzialmente ogni anno si potrà utilizzare la quota di avanzo che è decurtata da quella accantonato quella vincolato e la quota annua del disavanzo straordinario che viene a cui va data copertura al netto di queste voci sembra che quindi sarà data la possibilità di utilizzare avanzo però ricordiamoci una cosa che sempre per le regole di pareggio di bilancio comunque anche rispetto agli orientamenti della Corte Costituzionale di quest'anno e dell'anno scorso e rispetto a un'ultima circolare del MEF del 3 ottobre non viene meno la prescrizione che l'indebitamento non è rilevante alla voce entrata del saldo del pareggio di bilancio cosa significa che anche l'avanzo che deriva da indebitamento ha natura di indebitamento e non può essere considerato io dico perché spesso parecchi comuni hanno avuto la possibilità di accedere per esempio a finanziamenti a mutui del credito sportivo piuttosto che fate attenzione perché nel momento in cui si genera avanzo e voi l'anno successivo non avete gli spazi necessari anche se ora l'avanzo verrà sdoganato l'avanzo derivante da indebitamento non è componente positiva come lo sarà il rimanente avanzo del saldo di finanza pubblica quindi l'eventuale mutuo del credito sportivo per l'impianto sportivo la spesa nel saldo dovrà essere considerata l'entrata no io per il momento avrei finito dottore io la ringrazio speriamo di vederci anche per il futuro nei nostri convegni veramente complimenti è stato chiarissimo esaustivo quindi e ha tenuto due ore l'attenzione della platea io prima di dare la parola un attimo solo a Nino Mineo che mi fa piacere salutare il mio amico Nino Partolotta che poco fa era qua poi c'era il sindaco di Furci Matteo Franciglia che ci ha lasciato poco fa ma ritornerà dopo mi pare e tanti assessori consiglieri comunali di questi comuni che oggi stanno sponsorizzando questa giornata volevo dire che siamo in streaming quindi qualcuno mi manda messaggi che siete belli che siete simpati che sei snello ah là Nino Bartolotta scusami Nino non ti vedevo persona anziana sono mai io quindi non si deve fare caso e quindi mi vedono snelle e cosa fare quindi grazie a questi signori a 01TV noi siamo oggi in onda e speriamo di poterle ripetere questo giusto questo collegamento anche registrato se c'è qualche disavano noi non abbiamo disavano noi per essere sinceri all'ordine abbiamo avanzi da sempre quindi non poi con la mia gestione credo che si spenda poco e quindi non si pretendono solo le entrate ma le uscite mai non si mantengono va bene allora facciamo parlare adesso Nino Mineo ci facciamo 5 minuti ma 5 minuti perché Nino già è in infibrillazione va bene grazie vi ricordo per la prenotazione al pranzo al banco l'hai stancato l'hai stancato va bene complimenti 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 questa cambia e non cambia il frame grazie a tutti grazie a tutti